Non è un semplice convegno. Ecomobility, l'evento sulla mobilità sostenibile ideato da Espansione TV, LifeGate e Corriere di Como, punta a unire idee ed esperienza. Le idee saranno concentrate al mattino, sabato 15 giugno, quando nell'auditorium di Via Sant'Abboglio numero 4 a Como, a partire dalle 10, si alterneranno teorie e testimonianze, visioni e buone pratiche. Frank Rice, climatologo di fama internazionale, e ancora Marco Granelli e Tiziana Benassi, assessore a mobilità e ambiente a Milano e a Parma, Edoardo Croci, docente della Bocconi, Nicola Ventura, campione del mondo FIA Energia Alternativa. Questi sono solamente alcuni dei nomi che avverranno il dibattito di Ecomobility, che potrà contare anche su testimonianze dal mondo dell'industria, dell'imprenditoria e del giornalismo. Ecomobility cambierà registro nel pomeriggio, sempre sabato 15 giugno, quando le idee lasceranno il posto all'esperienza. Due tipi di esperienza differenti, dedicati ovviamente a un pubblico differente. Da una parte infatti si potrà toccare con mano il concetto di guida sostenibile, con test drive di auto elettriche e ibride. Dall'altra, le famiglie potranno trasmettere il concetto di sostenibilità ai bambini, tramite un laboratorio creativo appositamente studiato per l'occasione. Grazie per la visione!